Il 2018 è stato un anno difficile per i mercati. Dalle azioni ai bond, dall'oro agli alternativi, mai tante asset class sono andate in territorio negativo e tutte assieme. Ma cosa devono aspettarsi i risparmiatori in una prospettiva di rendimento di lungo periodo e di riduzione dei rischi di perdita? Tra variabili politiche e macroeconomiche che influenzano l'andamento dei mercati e che spaventano i risparmiatori, alcuni esperti e asset allocator globali si incontrano al Salone del Risparmio per fare il punto sui prossimi mesi, prestando attenzione all'analisi delle aree di rischio e dando risposte concrete e soluzioni di portafoglio adeguate alle esigenze della clientela. Scopri tutte le conferenze del percorso P3 dedicato a mercati e asset allocation.